Nome? Rossano Marcelli Età? 25 anni Che lavoro fai? Tirocinante dottore commercialista Cosa vuoi fare per San Colombano? Migliorarlo. Ritengo che progetti e idee in passato siano stati fatti, siano stati buoni, ma devono essere migliorati. Per quelli ancora da fare vorrei concretizzarli. Com'è il borgo che vorresti? Adatto a tutti, con più attività e più spazi per i giovani che sono il nostro futuro, più solidarietà per le nostre famiglie che è il presente e soprattutto per gli anziani più vicinanza che raccontano il nostro passato. Perché ti devono votare? Sono una bambina doc, determinata, con voglia di fare e con idee. So di essere giovane. La parola giovane non è solo sinonimo di cambiamento, ma voglia di fare idee e soprattutto di guardare le cose da una prospettiva diversa.